Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi vi volevo fare un video più dettagliato di questi prodotti di Bonfretti farveli vedere uno a uno e faremo un anel art insieme Allora, prima cosa vi voglio far vedere i semi permanenti che adesso vanno tanto di moda, che sono quelli che riflettono la luce Allora, iniziamo con questo Non so se in video rende, ma è qualcosa di meraviglioso Adesso ve lo faccio vedere anche steso Questo è il suo codice per cercarlo sul sito E una volta steso, questo sarà l'effetto Guardate che meraviglia E' fantastico Poi, quest'altro, sempre di quelli che riflettono la luce Questo è magnetico Adesso vi faccio vedere il colore Guardate Sono veramente fantastici E una volta steso risulterà così Come vedete, qui c'è l'effetto del magnete Che trovate sempre da Bonfretti Questo è il loro magnete Guardate che meraviglia Cioè, non ho parole È veramente solo rimasta scioccata Per quanto sono belli Poi, un altro semipermanente Questo è un normale semipermanente Con le paillettes Questo è il suo codice Resteso È così Aspettiamo che mette un attimo a fuoco Poi ve lo faccio vedere anche aperto Eccolo qua Ha una base leggermente Giallina Sul dorato, diciamo E tutte queste paillettes Adesso vi faccio vedere direttamente dalla boccetta Questo Per Aspettate Per avere quell'effetto Che ho avuto io qui su questa tip L'ho passato due volte Quindi non è uno di quei gel coprenti Come gli altri due Come questi due che vi ho fatto vedere prima Ok Per sigillare come vedete sono lucidissime Ho usato il loro top Che è un loro nuovo top Che è questo Il super top coat Senza dispersione È un top che non si graffia Ed è Guardate È lucidissimo Cioè ha proprio l'effetto bagnato È fantastico Poi Voglio farvi vedere Un pennello Adesso l'ho tolto Da La custodia Si presenta così Ed è un pennello Con la punta lunga e sottilissima Adesso magari proviamo su una tip A fare una linea Insomma vediamo Come va E poi c'è un'altra cosa Che voglio farvi vedere Sempre di Bonfritti Che ho trovato Fantastica Con questo potete fare Delle linee lunghe E precise Vedete Va benissimo Per questo tipo di decori Per finire Volevo farvi vedere Questo gel Che è sempre uno di quelli Che riflettono la luce Però è un gel spider Andiamo a aprire Allora qui forse in video Sembra Sull'arancio Ma vi posso assicurare Che è di un oro Brillantinato Fantastico Adesso Vediamo Insieme Vi faccio vedere Come fila Perché veramente Io gel che filano così Spider Mai trovati Cioè Questa è la prima volta Cioè Già si vede così Come potete vedere Come potete vedere Riflette tantissimo E soprattutto Fila tantissimo Io vorrei mettere a fuoco La tip E non Il barattolino Vediamo se ci riesco Vediamo se ci riesco La luce Sono adorabili Non so se in Italia Qualcuno li ha fatti Già Se li hanno già proposti Non saprei Però per il momento Non ne ho visti Non ne ho provati Ecco Diciamo Di quelli italiani Facciamo un'altra linea qua Vado un attimo In lampada 30 secondi Giusto per Fermare un po' il decoro Ed è questo Non so se in video si vede Però è proprio Oro giallo Non è arancione Assolutamente Vediamo Lo spot Tutti questi prodotti Li trovate sul sito Di Bonprizzi Ovviamente E adesso Vi faccio vedere Anche questo Lo stendiamo un attimo Per sigillare Questa che Che abbiamo fatto Con lo spider Ecco qua Ecco qua E vediamo E vediamo Iniziamo Vado in lampada 60 secondi Allora vi dicevo, questi prodotti li trovate tutti sul sito di Bonpritti, non ricordo adesso, sì ho un codice sconto di 20%, se volete, no se volete, io ve lo lascio nel box informazioni, se lo volete usare, se fate un acquisto usatelo tranquillamente, però funziona solo sul sito ufficiale di Bonpritti, non sul loro store, su Aliexpress, quindi se lo usate dovete usarlo sul loro sito ufficiale. E niente ragazzi, questo è tutto, vi faccio rivedere un attimo queste, questi colori, cioè io li trovo fantastici, questi che riflettono la luce sono veramente allucinanti, troppo belli. Aspettiamo ancora qualche secondo, voglio farvi vedere il sigillante, anche se qui si vede benissimo, ecco qua, eccola qua, come vedete, sembra un effetto bagnato per quanto è lucido. Questo è tutto, spero che questo video vi possa essere utile e vi mando un bacione, alla prossima, ciao a tutte!